Il lavoro delle badanti è un lavoro fondamentale in una società che è una società sempre con più anziani e finalmente la medicina risponde bene alle possibili cure e quindi è una società più anziana, più vecchia e quindi è fondamentale. La politica può fare molto, dovrebbe rendere più professionale, dovrebbe fare dei corsi dovrebbe garantire delle badanti sicure, cioè delle badanti che debbano essere scelte non per sentite dire ma per capacità professionali loro e anche noi creare veramente un albo o comunque un elenco di badanti specializzate e questa è una cosa molto importante per chi lavora e per chi riceve il lavoro.